Ciao a tutti amici di Formula 1 in generale e benvenuti in questo nuovissimo video che arriva oggi e non ieri perché comunque bisogna fare molte riflessioni bisogna ragionare a mente lucida, a mente fredda per cercare di metter giù nel miglior modo possibile più spunti di riflessione affinché si riesca a discutere magari qui sotto nei commenti e nel gruppo telegram alla quale vi lascio sempre qui sotto il link in calce vittoria di Sainz, la prima vittoria di Sainz secondo Perez in rimonta, terzo Hamilton, quarto Leclerc premessa che è stato un gran premio già fin da subito al cardiopalma incidente di Zoo e di Albon, incidente di Zoo dove il Rollbar ha addirittura ceduto un incidente particolarmente grave che però grazie ai nuovi standard di sicurezza comunque si è risolto nel migliore dei modi, non abbiamo subito la perdita di alcun pilota per fortuna ringraziando il cielo e grazie agli studi e ai progressi tecnologici un po' adesso noi dobbiamo ragionare sulla gara perché qui c'è una domanda che è fondamentale ovvero la Ferrari si è iscritta al campionato di Formula 1 2022 per vincere i Gran Premi o per vincere il Mondiale? è questa la domanda la domanda è esattamente questa quali sono gli obiettivi? perché se l'obiettivo è fare il compitino per casa allora ieri è stata una gran giornata se il compitino è vincere il Mondiale ieri è stato un disastro ci sono delle dichiarazioni da parte di Binotto che io non reputo adeguate ma non per la posizione che ricopre proprio non le riesco a comprendere perché dici che il doppio pit non si poteva fare mi riferisco a Albon rompe la macchina non la fa rientrare in box la ferma lì e anche lì si potrebbe discutere ma queste sono le gare queste sono cose che sono sempre capitate e tu team devi reagire di conseguenza sia se sei il team di vertici sia se sei il team di fondo quindi non dobbiamo dar la colpa a Ocon quindi Leclerc ha addirittura rallentato per dare più tempo e comunque l'hanno tenuto fuori lo tengono fuori fanno rientrare Sainz rientra Hamilton gomme rosse gomme rosse escono fuori Leclerc viene mangiato e arriva quarto allora si poteva fare il doppio pit stop? per Binotto no per l'ingegner Mazzola si anche per Bobby e tutta Sky si perché c'erano più di 3 secondi di gap quindi il doppio pit stop si poteva fare ma putacasa non si potesse fare se tu ti stai giocando il mondiale e hai un pilota come Leclerc che va più forte di Sainz con macchina danneggiata ora la Ferrari prima aveva fatto bene a non spostare subito Sainz non puoi distruggere un pilota perché un pilota ti deve garantire una certa performance nel tempo non poteva subito dire a Sainz di togliersi però poi quando hanno emanato l'ordine di swappare i piloti Sainz ha fatto l'uomo di squadra Sainz non ha alcuna colpa e a me dispiace che questo ragazzo abbia vinto in questo clima che gli va contro a me dispiace che questo ragazzo abbia vinto e non c'è nessuno che sta festeggiando per lui a me dispiace tantissimo perché le circostanze con cui ha vinto non fanno bene alla Ferrari dal punto di vista del mondiale neanche al costruttori perché male che vada finivano primi e terzi non primi e quarti quindi neanche dal costruttori c'è un vantaggio figuriamoci per il piloti in una giornata dove Verstappen non era in lotta per la vittoria perché ha spaccato il fondo probabilmente ha spaccato il fondo vengono persi punti vengono recuperati una manciata di punti con Perez che addirittura leva punti alle Clerc Sainz doveva vincere Canada il Canada era la gara di Sainz il Canada era la gara di Sainz che avrebbe tolto i punti a Verstappen Perez ha tolto i punti alle Clerc giustamente e anche Hamilton perché anche Hamilton ha fatto una gran gara un animale da cronometro sempre detto che tra parentesi si è beccato un sorpasso alla Copse da esterno a gomme finte dalle Clerc che dà antologia per dire questo per far capire un po' la differenza di talenti tra i due alfieri della Ferrari cioè chi è il fenomeno e chi è l'ottimo pilota questa cosa deve essere chiara lineare pulita e cristallina ma torniamo all'episodio rientra Sainz e non le Clerc viene detto durante la ripartenza della Safety Car c'è un team radio e i ragazzi di Formula 1 in generale ci hanno pure fatto l'articolo dove dicono a Sainz di mantenere 10 macchine dalle Clerc in sostanza tu col pilota che è fatto vincere poi successivamente perché questa cosa non si poteva fisicamente fare non puoi far da tappo a Silverstone con queste macchine dove è più facile eseguire non esiste non puoi fare il tappo hanno chiesto a Sainz una cosa che non stava né in cielo né in terra tant'è vero che ha detto ragazzi non chiedetemi di fare queste cose quindi uno potrebbe pensare vabbè l'importante è che vinca la Ferrari ma avrebbe vinto comunque la Ferrari l'avrebbe vinta comunque con le Clerc quindi la classica citazione di Enzo Ferrari neanche qui regge non avrebbe senso perché se poi tu dici a un pilota di far da tappo allora tu su chi stai puntando sulle Clerc o su Sainz e perché non è fatta entrare a Leclerc e questa è una discrepanza è un qualcosa di insensato Leclerc era più veloce di Sainz con l'ala danneggiata ha perso 5 punti di carico sono un decimo e mezzo Sainz per stare al ritmo di Leclerc per cercare di non farsi passare anche se poi dopo hanno fatto lo swap position è andato in fuel negative stava finendo la benzina poteva non finire la gara con quel ritmo non ce la faceva quello che è successo oggi a mio avviso è una questione di mentalità e di obiettivi perché bisogna dirlo se Ferrari partecipa per vincere il mondiale questa non è la mentalità giusta non è una mentalità competitiva non è una mentalità che vada che vada al mondiale a medio corto lungo termine non esiste con Jean Tod o doppio pistop o rientrava Leclerc punto quando Michael Schumacher si ruppe le tibie e venne sostituito da Sato Edir Vine prese la vittoria su Sato che sarebbe stata l'unica vittoria di Sato in Formula 1 perché dove si doveva cercare di vincere il mondiale perché Sato ha fatto l'uomo di squadra e ha fatto quello che ha fatto ha fatto una cosa da uomo di squadra Edir Vine non vinse quel mondiale per poco perché vabbè quello era forse poteva essere l'ottavo mondiale di Schumacher qualora non si fosse rotto le tibie in quell'incidente quindi signori la mentalità è importante sapete chi era il più incazzato io ieri ho visto Reisanato sapete chi era il più incazzato quello più stranito era Mazzola l'ingegnere Mazzola perché perché deriva da quell'ambiente lì deriva dall'ambiente di Schumacher e Todd dove lì la mentalità non era il compitino lì si doveva vincere punto sono successe cose anche discutibili nei confronti di Barrichello basti pensare all'Ungheria lì non era necessario perché lì la Ferrari dominava lì ah quegli anni c'erano anni in cui la Ferrari ha lottato e vinceva ma quegli anni dominava con Schumacher anni di dominio Schumacher anni di lotta Schumacher quindi quell'anno non era necessaria fare una cosa del genere però è stata fatta però è stata fatta però è stata fatta perché dobbiamo vedere le cose come stanno e qui ce lo può dire solo la Ferrari se la Ferrari dichiara di non interessarsi al mondiale e solamente di vincere le gare allora io vedrò le cose con un'altra ottica noi tifossi vedremo le cose con un'altra ottica e ci adegueremo per carità del cielo ci adeguiamo ma se l'obiettivo è vincere il mondiale questa non è la mentalità questa non è la mentalità la mentalità con la quale si scende in campo è fondamentale sia se si tratta di una partita di calcio provinciale sia se si tratta della finale di Champions sia se si tratta il gran premio di Alcamo con Ico Carti sia se si tratta il gran premio di Silverstone in Inghilterra di Formula 1 la mentalità è questa quindi noi tifosi o comunque appassionati di Formula 1 ci chiediamo quale siano gli obiettivi della Ferrari l'ho pure chiesto a Carlo Vanzini mi hanno pure citato su Sky ma è stato interrotto perché dovevano fare la foto quindi non ho avuto neanche la risposta di Vanzini ancora non c'è nessuno in grado di nessuno delle altre sfere o comunque di gente che è stata in grado di rispondermi seriamente a questa domanda quali sono gli obiettivi della Ferrari io vi saluto vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo qui sotto il canale Telegram per le discussioni tra i ragazzi della community e ci becchiamo al prossimo video e ci becchiamo